Segretario, questa mattina avete presentato qui in CGL una serie di iniziative che riguardano la Carta dei Diritti del Lavoro e poi i tre referendum abrogativi, sui voucher gli appalti, ma non solo. E poi soprattutto avete parlato di alcuni dati importanti che dicono che nel 2016 c'è stato un crollo delle assunzioni a tempo indeterminato ed un'esplosione dei voucher. Dati che ci dicono che appena sono diminuiti gli incentivi previsti dalla legge di stabilità del 2015 le assunzioni con il contratto a tempo indeterminato sono letteralmente crollate. Gennaio-marzo 2015 le assunzioni con contratto a tempo indeterminato erano circa 12.991. Nello stesso periodo, gennaio-marzo 2016, le assunzioni con il contratto a tempo indeterminato sono crollate a circa 6.000 e poco più. Giovedì prossimo, 26, faremo la presentazione della Carta al mondo universitario, quindi ai docenti e ai ragazzi dell'Università di Teramo. Nello stesso appuntamento faremo anche una riflessione su quello che è stata a Teramo in questi anni di crisi è stata in qualche modo la trasformazione di quel tessuto occupazionale e industriale che ha portato a una grande, purtroppo crescente precarietà. Il 18 giugno siamo al porto turistico, al padiglione Excofa, per la festa dei diritti della Camera del Lavoro. È articolata così la giornata, abbastanza impegnativa, perché la mattina faremo una tavola rotonda per parlare di turismo, di stagionalità, per capire in questo settore come mai esplodono i voucher. Saranno con noi i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e del settore.